L'icona che vedete è la prima immagine che ritrae padre Matteo Ricci, dipinta da un suo confratello cinese durante la veglia notturna della sua morte. Porta la data dell'11 maggio 1610. L'artista ha preferito rappresentare il suo confratello con gli occhi aperti, come se continuasse a vegliare anche dopo la morte. I suoi occhi aperti vogliono essere anche segno continuo di una presenza che rimane viva nella storia del popolo cinese, come anche una garanzia che la verità da lui ricercata sulla terra ora è contemplata in cielo.